se salire o se scendere. E io più leggo i numeri più mi convinco che l'indipendenza adesso sia duplice, l'indipendenza solo da Roma, rimanendo con il capo di Bruxelles non è sufficiente, l'indipendenza solo da Bruxelles rimanendo con lo Stato italiano fra le palle non è sufficiente, è duplice, però lo strumento che è servito allo Stato italiano per tenere ingrabbiata la padagna, ci chiama Evolo. E quindi prima salta l'Evolo, prima posso riprendere la palla mia battaglia per l'indipendenza.